Amici Trebimete, un bentrovati da Luca Pace. L'avvio di settimana vedrà il rinforzo di un campo di alta pressione su gran parte dell'Europa centrale e anche sul bacino del Mediterraneo. A garanzia quindi di giornate nel complesso stabili, asciutte e con clima anche gradevole nel corso del pomeriggio sull'Italia. Vediamo nel dettaglio la previsione per quanto riguarda la nuvolosità, vedete nuvolosità alta e stratiforme in transito nel corso della notte ma si tratterà di nubi veramente di poco conto, altrove invece ampie schiarite con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel dettaglio le precipitazioni, vedete poco da segnalare, cartina emblematica, gran parte dell'Italia asciutta, solamente sulla Sicilia potremo ritrovare residua variabilità con locali isolati piovaschi. In definitiva, ecco la previsione per la giornata di lunedì sull'Italia, cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del centro nord, al sud invece come dicevamo maggiore variabilità ma con scarso rischio di precipitazioni. Da segnalare tuttavia tra notte e primissime ore del mattino qualche foschia o locale banco di nebbia, impossibile formazione sulla bassa pianura padana. Temperature massime che come detto saranno decisamente gradevoli nel corso del pomeriggio, ovunque attorno ai 20 gradi, non escludiamo picchi di 22-23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ma ulteriori dettagli vi aspettano sulla nostra app gratuita Treibi Meteo.